French toast, il bacon per lei e uova stratazzate. Grazie. Grazie a voi. Scusi, ma ci hanno messo sopra lo zucchero a velo. L'avevo ordinato senza zucchero. Non posso prendere tanto zucchero la mattina. Oh, mi dispiace. Guarda qua, hai proprio ragione. Allora faccio una cosa. Questo me lo riprendo e te ne porto un altro. Ecco qua, bene. Vuoi tutto bene? Ok, bene. Sai dove sono i miei libri e tutta la mia roba? Perché non riesco a trovare... Aspetta, no, stavano nella macchina e la macchina è esplosa. Esatto, esatto. Molto, molto divertente, sei esilarante. Ecco ancora un po' di caffè caldo. Grazie. Bene, ecco qua. Grazie mille. Mi dispiace, scusate. Il tuo French Toast sarà pronto tra un minuto. Ok, grazie. Grazie a te. French Toast senza zucchero. Ok, scusa per prima. Non c'è problema, grazie. Non c'è problema. Grazie tanti. Figurati. Gentile però. E' buono. E' buono. Grazie. Grazie. Grazie.